benvenuti in un'altra puntata di javascript in pillole una breve serie in cui vado a spiegare alcuni concetti che possono risultare fondamentali per chi comunque non ne ha conoscenza per dare quelle basi e consolidare quelle basi necessarie per imparare quella che è la libreria react o comunque concetti processi di utilizzo comune all'interno dello sviluppo della programmazione con javascript l'argomento della lezione di oggi è l'intl.number format che ci permette di ritornare dei numeri formattati in modo corretto secondo quella che è la dicitura standard in base a variabili quali lingua tipo di moneta unità di misura già formattate già dotati del dell'unità di misura magari corretta o comunque della moneta corretta l'esempio più semplice ovviamente è quello della moneta dove andare a dare e mostrare i prezzi in maniera corretta formattati nel modo giusto è fondamentale soprattutto quando si parla di denaro è importante essere molto chiari ed è qua che int dot number format ci permette di ritornare delle istanze formattate nelle maniere corrette per formattare e ottenere questo risultato abbiamo bisogno di far altro che dire che const price facciamo anche già così console dot log di price sarà uguale a new perché utilizzeremo stiamo creando un'istanza a partire da una classe quindi int dot number format e abbiamo diverse opzioni il primo è di definire quella che è la lingua corrente in questo caso utilizzeremo quella che è semplicemente quella tedesca il re degli euro e poi gli passeremo un oggetto di configurazione in cui avremo style che definisce lo stile di quello che avevamo bisogno di ritornare di currency che sia una moneta e diremo che la nostra currency sarà proprio è uno euro dot format e gli passeremo il nostro numero andiamo a salvare e vediamo che abbiamo ottenuto esattamente il risultato che ci aspettavamo già formattato e già munito di euro volessimo trasformare questo in yen quindi passare alla moneta yen ci basterà cambiare questo valore passando jpi e qua passare semplicemente gpi vado a salvare e ottengo il corrispondente in yen già formattato nella maniera corretta ovviamente ho altre possibilità qualora appunto volessi andare a avere un retorno con dei caratteri specifici per una certa lingua ecco che posso andare a ottenere anche questo risultato in cui dire che cost special number uguale vado a dirgli che ho un new int dot number format e gli vado a passare semplicemente il primo parametro che indica diciamo la località dal quale partire nella mia conversione quindi in questo caso andrò a passare ar e g dot format number e gli passerò il mio number in questo modo otterrò questa dicitura magari se andassi a console dot logare special number otterrò questa dicitura dove utilizzerò direttamente i caratteri utilizzate all'interno dei dei paesi che parlano comunque la lingua araba ovviamente ho altre possibilità come nel caso di questa cosa che sto copiando e che mi sono preparato perché impossibile saper la memoria che mi permette di avere un retorno con dei caratteri con il sistema decimale cinese e questo è molto importante qualora stessimo sviluppando qualcosa che deve essere cross funzionale diciamo ecco cross country o un'altra possibilità che è quella di andare a lavorare sulle unità di di misura in cui vado a dire che const unità uniti facciamo prima è uguale a new in dot number format dove questa volta dobbiamo passare quella che è ad esempio il paese a cui si fa riferimento per unità di misura e andare a dire semplicemente di nuovo con un oggetto di configurazione di che cosa abbiamo bisogno quindi stai che sia unità di misura quella che è l'unità di liter è il modo in cui vogliamo mostrare la nostra unità noi mettiamo long in modo che avremo la di cittura completa andiamo ad avere dot dot format e gli passiamo ancora una volta il nostro number console dot log di uniti e otteniamo che questi sono esattamente i nostri litri 1200 litri abbiamo già questa unità di misura preimpostata molto molto importante se io qua andassi a sostituire avessi pt pt e qua posizionarsi sempre unit e chilometre per andassi a salvare ottengo esattamente questo tipo di digitura che mi aiuta ad avere una formattazione molto chiara non passo unit display salvo e o chilometri orari iscritto con la classica di citura e quindi